abilitando colui che con umilità l'accoglie e se ne riveste nella fede a conoscere le opere dell'amore. Che cos'è questa grazia? È il Favula Dei, il soccorso gratuito che Dio ci dà perché rispondiamo al suo invito, diventare figli di Dio, figli adottivi, partecipi della natura divina e della vita eterna. Grazia è l'amicizia di Dio, la sua vicinanza trasformante e non è proprio che diamo alla relazione con Lui, alla comunione con Dio che è amore che cambia i cuori. Perché li cambia? Perché l'amore ha questo di caratteristico, che trasforma l'amante nell'amato. Investiti nell'amore di Dio, scatta in noi una risposta. Signore, ti vado bene. Faccio a me i tuoi sogni, le tue speranze, i tuoi desideri. Respirare all'altezza pura del tuo amore. Grazie. Grazie.